Buonasera a tutti dalla Tg regionale per sordi. Incendio di circa mille rotoballe stipate in un deposito a Monteroni d'Arbia in provincia di Siena. La notte scorsa il materiale è andato a fuoco in una tenso struttura agricola dove i vigili del fuoco di Siena hanno inviato numerose squadre chiamando rinforzi di personale anche dal distaccamento di Montalcino. Sul posto verso le 1.40 sono state inviate ben 7 unità e 3 mezzi. Il presidente della Toscana Eugenio Gianni è tornato a parlare del rigassificatore a Piombino e ha detto approfondiremo e ci incontreremo con tutti. Avremo anche un incontro in consiglio comunale a Piombino. Lo ha detto a margine di un evento in regione sul dibattito del rigassificatore che dovrebbe essere situato a Piombino e dove sabato 18 giugno circa 2.000 persone, molte su 100 barche in mare, hanno manifestato invece contro il progetto. E ora vediamo insieme la situazione dei casi Covid in Toscana. Per quanto riguarda i nuovi positivi sono 605, il tasso è del 20,83% rispetto a ieri i casi in calo, così come i tamponi ma non il tasso di positività. I nuovi contagiati hanno un'età media di 47 anni. Purtroppo si contano altri 5 decessi, sono 4 uomini e una donna, l'età media 86,2 anni, residenti 1 nelle province di Firenze, 1 Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca. In rialzo i ricoveri sono 266, 14 in più rispetto a ieri, di cui 10 in terapia intensiva, dunque 2 in più. Veniamo alla cronaca. Cinque denunciati dai carabinieri di Viareggio a vario titolo per ricettazione e autoriciclaggio relativa a smontaggio, custodia, vendita e trasporto di auto e moto rubate. Le indagini hanno fatto seguito alla scoperta nell'agosto del 2021 di un capannone con 9 veicoli tra auto e moto e 18 parti meccaniche o di carrozzeria. Materiale rubato in furti avvenuti a Viareggio, Camaiore e anche Roma. Le parti smontate interamente o a pezzi venivano rivendute oppure utilizzate per riparare altri veicoli. Firenze, dopo due anni di festeggiamenti ridotti causa Covid, torna a festeggiare il suo Santo Patrono con eventi in presenza e i celebri Focchi di San Giovanni, tradizionale spettacolo pirotecnico, del 24 giugno. Il programma è stato organizzato dalla Società di San Giovanni Battista grazie al contributo di Fondazione Cassa Risparmio Firenze e con la collaborazione del Comune di Firenze. Il clou sarà alle 20.30 sul Lungarno della Zecca. I fochi dureranno 40 minuti, saranno preceduti da un intrattenimento condotto da Alessandro Masti di Radio Toscana e dal concerto della fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze. Lo spettacolo pirotecnico è stato potenziato rispetto agli scorsi anni per offrire una magia di luce grazie a coreografie computerizzate che partiranno a più livelli dal piazzale e dal basso. Contemporaneamente. Oltre alle tradizionali figure dalle farfalle alle cascate di luce è previsto anche un nuovo salice piangente color d'oro. E tra gli appuntamenti della giornata del 24 giugno è dedicata al patrono anche la sfilata alle 9.30 col gonfalone di Firenze dove il sindaco Nardella e le autorità partiranno da Palazzo Vecchio per poi arrivare al Battistero. Le celebrazioni proseguiranno alle 10.30 con la Santa Messa solenne in Duomo celebrata dal Cardinale Betori con canti di musica sacra eseguita dai pueri cantores di Santa Maria del Fiore con la cappella musicale della Cattedrale e le voci bianche del Maggio Fiorentino. Alle 18.30 si svolgerà la finale del calcio storico tra i rossi di Santa Maria Novella e gli azzurri di Santa Croce. 6 giorni di appuntamenti culturali tra dibattiti e spettacoli dal 21 al 26 giugno nasce la prima Queer Week Fiorentina di Archie Gay Firenze al Tresponde. La Kermess ha ingresso gratuito si svolge al Lumen il laboratorio urbano del Menzola in via del Guarlone. L'obiettivo permettere alle persone di esprimersi per ciò che sono senza subire pregiudizi. Crede di avere i ladri in casa e visa i carabinieri ma il personale dell'arma ha constatato poi che nell'appartamento c'erano non ladri impegnati in un furto tradizionale ma due persone che avevano occupato in modo abusivo l'abitazione in assenza dei proprietari. È accaduto a Terra Nuova a Bracciolini stiamo in provincia di Arezzo nella casa c'erano un uomo e una donna già noti per essere abitualmente dediti a espedienti e reati contro il patrimonio approfittando dell'assenza dei legittimi proprietari si erano quindi introdotti nella casa. E ora veniamo alle previsioni del tempo per domani in Toscana sereno poco nuvoloso salvo temporanee modeste velature locali addensamenti di nubi basse sulle zone più settentrionali questo nelle prime ore del mattino per poi dissolversi rapidamente i venti deboli da sud sud ovest con rinforzi pomeridiani moderati di scirocco sulla costa meridionale e sull'arcipelago in mattinata moderati in montagna e sui versanti emiliano romagnoli dell'appennino i mari tra poco mossi e mossi e veniamo alle temperature lieve aumento soprattutto le massime che invece rimangono stazionarie lungo la costa le punte saranno anche di 36 gradi nelle pianure più dell'interno i valori saranno tra i 4 e i 6 gradi sopra la media stagionale è tutto per questa sera arrivederci